Sì, amiche, noto ma che ducco di me che non cuore la tua voce è la foto di me e mi fa bene, ecco voi pregherci, e amici oh, ruccheri, ciò posto, nuvate sorire ciò vuoi pregiare se allora ok ok passare can a Grazie a tutti. Grazie a tutti.